I grandi e i piccoli perché? Perché il giorno e la notte non hanno sempre la stessa durata? L'estate i nostri genitori ci lasciano giocare fuori anche la sera perché le giornate sono più lunghe. In inverno invece viene buio presto. Ma perché questo accade? I grandi e i piccoli perché? Perché il giorno e la notte non hanno sempre la stessa durata? La differenza di ore di luce dipende dall'inclinazione dell'asse terrestre e dalla posizione in cui si trova la Terra mentre orbita intorno al Sole. La rotazione completa del nostro pianeta su se stesso dura un giorno, mentre il motto dell'evoluzione intorno al Sole dura un anno. Durante la rotazione i raggi solari illuminano solo una metà del globo terrestre, mentre l'altra rimane al buio. Siccome l'asse non è allineato ad angolo retto con la nostra stella, il circolo di illuminazione, cioè la linea che separa la luce dalle tenebre, è obliqua. Per questo, quando in Italia è giorno, agli antipodi, in Nuova Zelanda, è notte. Provate ad infilzare un'arancia con un lungo stuzzicadenti e poi mettetela davanti ad una lampadina, spegnendo le altre luci nella stanza. Inclinando lo spiedino potrete vedere quali porzioni del frutto vengono illuminate e quali no. Le uniche due giornate in cui giorno e notte durano ugualmente sono gli equinozzi di primavera ed autunno, quando il circolo di illuminazione attraversa tutti e due i poli. Oggi hai imparato perché il giorno e la notte non hanno sempre la stessa durata.